Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili fare attenzione per personale su strada segnalato tra Firenze Viadotto dell'Indiano e Firenze Scandici in direzione mare. Su raccordo autostradale Siena Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla regionale 2 Cassia per lavori restringimento di carreggiata in senso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in chiusura di via Pisana nel tratto tra via Bugiartini e via Puligo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana la città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.